Stefano, che effetto fa a riesordire con la maglia biancazzurra, con lo stemma del pineto sul petto? Ma è una bella sensazione, io comunque volevo fortemente tornare perché conosco il presidente, la società, e mi fa molto piacere. Ma ho lasciato un pineto che si vedeva che ambiva comunque a stare nelle zone alte della classifica e quando una società lavora bene, prima o poi comunque le soddisfazioni arrivano. E infatti l'altro anno hanno vinto con merito e sono contento che sia andata così. Stefano, ritrovi a distanza di qualche tempo il girone B di Lega Pro che avevi lasciato un po' di tempo fa. Che effetto ti fa? Vengo da due anni che ho fatto il girone C, che sicuramente a livello ambientale è diverso. Ti dà qualcosa in più, però penso che a livello tecnico più o meno si equivalgono. Però per noi che siamo comunque in realtà piccolina, secondo me il girone è più adatto a noi dove possiamo onestamente fare meglio. Ma innanzitutto il Giuliano è una signora squadra che pure l'altro anno stava nel girone con noi a Latina e ha fatto un buon campionato. È formata comunque da giocatori esperti, da giocatori forti. Penso che noi non abbiamo affatto sfigurato, anzi, secondo me abbiamo fatto un pochino meglio noi. Poi su Ricordi hanno vinto loro. Però secondo me è stato un buon test e sono molto contento. Stefano, per chiudere, una cosa che non è cambiata, che non ti è cambiata nel corso del tempo, è l'uscita palla a Tonti che dà il primo pallone per Stefano Amadio. Sì, diciamo che ormai ci conosciamo bene. No, a parti scherzi, è una cosa che proviamo, una cosa che comunque con Ale c'è grande sintonia dentro e fuori dal campo. Sono molto contento che sia anche lui con noi. Sì, dai, ci troviamo bene. Non c'era la maglietta numero sei, quindi ho preso questa, però il sei mi ha portato bene e non lo lascio.